E' partita la demolizione della sede storica del liceo Marconi di Pescara di via Marino da Caramanico così come era stato annunciato la scorsa primavela dalla provincia di Pescara. Gli studenti hanno iniziato l'anno scolastico in altri plessi anche se fra 12 giorni sarà operativa la sede provvisoria all'ex Fater. Nel prossimo anno scolastico poi si ripartirà tutti nella sede di via Marino da Caramanico una volta conclusi i lavori che dureranno otto mesi. Sta procedendo benissimo secondo le indicazioni date. Noi siamo veramente in grande collaborazione dal primo settembre che sono qui c'è una sinergica collaborazione con la provincia quindi io e l'ingegnere urbani e altri addetti ai lavori ci rechiamo spesso nei cantieri quindi monitoriamo non dico tutti i giorni ma quasi la situazione e siamo veramente soddisfatti perché i nostri operatori stanno lavorando anche di domenica affinché si possa rientrare nel migliore dei modi ed essere accolti e accogliere nel migliore dei modi. Il 18 di ottobre ci sentiamo di dire questo che il 18 di ottobre tutte le classi della liceo Marconi rientreranno in presenza come stanno facendo ma volevo dire in orario antimeridiano quindi tutti avranno la loro giornata la loro mattinata di scuola e non i loro pomeriggi purtroppo per alcuni dopo tutto sono soltanto dieci giorni di turni pomeridiani perché per andare incontro alle esigenze di questi bravissimi ragazzi abbiamo cercato di far sì che una settimana rientrasse un gruppo di classi la settimana successiva un altro gruppo. Contrattualmente l'operatore economico ha otto mesi di tempo per la realizzazione dei due corpi di fabbrica che dovranno già ridare oltre 40 aule a questa scuola poi abbiamo un terzo lotto che ci assicurerà la realizzazione del terzo edificio. Io sono ottimista, l'operatore economico ha già preso in mano la situazione, il cantiere c'è un'ottima organizzazione con la demolizione che sta avvenendo nel rispetto di tutte le norme che la filiera richiede e ripeto io sono possibilista e ottimista che in otto mesi riavremo due corpi di fabbrica. Spero che le vicende che interessano il mercato ultimo con molti interventi che stanno partendo in campo nazionale per i famosi programmi nazionali che tutti conosciamo in ordine all'efficientamento termico energetico, bonus per l'adeguamento sismico eccetera, non condizioni tanto l'operatore economico che si sta già praticando per l'approvvigionamento di ogni materiale per far sì che la filiera venga attuata nel rispetto dei tempi.